Sono molto orgoglioso di presentarvi oggi la 2 milioni di chilometri, una manifestazione non competitiva organizzata da Bikeivo per aiutare Dynamo Camp, associazione dedicata alla terapia ricreativa. Tutti possiamo contribuire a salire in sella per un'unica vittoria, raggiungere un totale di più di 2 milioni di chilometri in bicicletta facendo del bene. Supportare Dynamo Camp e il non profit in questo momento difficile e complicato è veramente importante e necessario. Dynamo Camp offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche e alle loro famiglie, grazie alla generosità di tantissime persone e di tantissime aziende e di tantissime realtà istituzionali che hanno deciso di supportare la nostra missione. La 2 milioni di chilometri è proprio importante per questo perché è un'iniziativa fatta da partner lungimiranti e molto vicini a Dynamo che desiderano aiutarci e portare avanti questa iniziativa. Ogni pedalata può fare la differenza, quindi dopo aver sentito questo messaggio mi raccomando inoltratelo a tutti i vostri amici, agli ambasciatori di Dynamo, ai volontari e a tutti quelli che possono fare la differenza. Ogni pedalata è importante, sia per il Dynamo Camp che per la Federazione Ciclistica Italiana. Vi invito davvero tutti, non solo i tesserati della federazione ma tutti gli appassionati della bicicletta, a tutti gli appassionati della pedalata a contribuire a questo progetto che è bellissimo per sostenere l'attività dei nostri giovani e soprattutto le attività di Dynamo Camp. Dai forza, pedaliamo tutti insieme! Questa iniziativa è nel DNA di Belchevo perché è rivolta ai giovani ed è per me motivo di grande orgoglio. Chiedete ai vostri colleghi e amici di partecipare facendo per una volta un'uscita in bicicletta che sia, oltre che piacevole, anche utile. Diffondetela e iscrivetevi subito!